La polizia locale del comune sta indagando per scoprire le cause della voragine che si aperta domenica scorsa in piazza Miraglia, di fronte all'ingresso del primo policlinico. Dopo una prima ipotesi di cedimento del manto stradale, si prospetta adesso la possibilità di uno svuotamento del sottosuolo causato da uno scavo fraudolento, una banda del buco che probabilmente puntava all'ufficio postale della piazza. I servizi della quarta municipalità si incontrano quest'oggi con i servizi centrali del comune per valutare la situazione. Al momento è stata rilevata la rottura del condotto fognario superficiale per un tratto di circa 5 metri. L'area è stata messa in sicurezza e sono stati attuati interventi di emergenza per i sottoservizi, acqua e gas. È stato realizzato un bypass temporaneo alle condotte per garantire la continuità delle utenze che riguardano anche il vicino ospedale. L'intervento di ripristino definitivo sarà più complesso e richiederà qualche tempo, ma a breve sarà ridotta l'area del cantiere per consentire lo scorrimento di cittadini e turisti verso l'area dei decumani.